Tutti questi balli che avete visto non è il tango che si balla sul palco, purtroppo noi siamo ora sul palco, ma non è da spettacolo, ma è la tecnica che si usa in sala da ballo, quindi è la versione sociale. Come quando si va fuori a ballare in liscio, qui si va a ballare a Buenos Aires e anche altrove, ormai, dappertutto si balla così, diciamo senza disturbare nessun altro in pista, ma questo mi sembra che la maggior parte di voi lo sapete già. Ok, allora, l'ultima, quasi l'ultimo ballo che vi vorrei presentare è la versione tanghera del balzer, e quindi vediamo un attimino, e si chiama Salute, Denero e Amore. Credo che si capisce che vuol dire salute, denaro, soldi e amore. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.